Allora, primo giorno d'avvento, primo consiglio. Il primo consiglio è l'intimo color carne. Per fare le prove, per fare il matrimonio, quello che noi appunto andiamo a proporre alle spose è un intimo color carne che sia il più possibile nudo, quindi del tuo stesso colore della pelle. Se è una pelle un pochino più chiara cerca un intimo un po' più chiaro, se viceversa è una pelle un pochino più scura, cerca l'intimo più adatto alla tua carnagione. Ora al giorno d'oggi ormai ci sono un sacco di sfumature, quindi hai la possibilità proprio di trovare il colore più adatto a te. Perché l'intimo color carne e non un color bianco? Perché semplicemente i bianchi, a differenza di quelli color carne appunto, vanno a quando metti sopra un abito bianco in questo caso, o comunque un abito chiaro, quindi in generale per, soprattutto magari d'estate, appunto per l'abbigliamento chiaro, va a creare la differenza. Quindi si vede il reggiseno o piuttosto che il slip con lo stacco con la pelle. Quindi si vede la trasparenza del bianco, che in questo caso sarebbe meno trasparente, e poi il color chiaro della pelle. Quindi intimo assolutamente color carne.